Questo è volentieri, leggiamo scritto, senza zuccheri aggiunti sull'etichetta. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che quel prodotto è senza zucchero, come molte purtroppo persone pensano? No, non vuol dire che sia senza zucchero, vuol dire che non ci sono zuccheri aggiunti. E anche questo non è sempre vero, perché con qualche magheggio si possono anche aggiungere zuccheri senza doverlo per forza specificare nell'etichetta. Adesso mi spiego meglio. Se io per esempio vado al supermercato a comprare una spremuta o un succo di frutta, 100% frutta, lì c'è scritto senza zuccheri aggiunti. Benissimo, vuol dire che in quel caso c'è solo frutta spremuta oppure frullata e non ci sono palate di zucchero aggiunte. Perfetto. Ma vuol dire che quel prodotto è senza zucchero? No, lo zucchero ce l'ha, le quantità che deve avere quel prodotto, lì non ci saranno quantità aggiuntive di zucchero. In altri casi, soprattutto sulle confetture, si trova spesso la dicitura senza zuccheri aggiunti, fatto da sola frutta. Se andiamo a controllare bene l'etichetta, in realtà lo zucchero aggiunto c'è, è semplicemente scritto in una maniera particolare che può rientrare con un magheggio nel senza zuccheri aggiunti. Mi spiego meglio. Se io ho un prodotto che viene dolcificato col succo d'uva concentrato, col succo di mela concentrato, non sto facendo altro che aggiungere lo zucchero della frutta, di altra frutta, alla frutta della confettura. C'è una confettura di fragole e ci aggiungo il succo d'uva concentrato per dolcificarla ulteriormente. Sto aggiungendo zucchero di fatto perché ho preso il succo d'uva, l'ho concentrato, quindi ho tolto tutta la parte acquosa e è rimasto lo zucchero, lo metto nella mia confettura di fragole e mi sono fatto la confettura di fragole col succo d'uva, che non è più succo d'uva perché è concentrato e quindi è rimasto praticamente solo lo zucchero e quindi però posso scrivere sull'etichetta che è solo dagli zuccheri della frutta, non ci sono zuccheri aggiunti. In realtà se controlliamo meglio, gli zuccheri aggiunti ci sono pure. Non che sia per forza un problema, però è un po' un magheggio del marketing, ecco mettiamola così. Quindi fare sempre attenzione. In alcuni casi gli zuccheri sono nascosti perché in alcuni casi c'è scritto proprio zucchero tra gli ingredienti, in altri casi magari c'è scritto sciroppo di glucosio, uno magari non ci pensa e non vede scritto zucchero e non ci pensa. Invece sciroppo di glucosio non è altro che zucchero, ok? Quindi attenzione a queste diciture che possono magari trarre in inganno, ma alla fine gli zuccheri ci sono sempre. Quindi dobbiamo sempre poi controllare l'etichetta nutrizionale per vedere i valori nutrizionali. Quando troviamo scritto carboidrati di cui zuccheri, controllare quella parte lì, così sappiamo esattamente quanto zucchero c'è in quel preparato.